Dopo essersi fatta valere nella sciabola, la Podigi Mavellino si prepara a conquistare la qualificazione anche nella spada per la finale di Riccione. Il team Irpino a tal proposito sabato e domenica parteciperà al campionato italiano di categoria a Caserta, un evento particolarmente difficile data la massiccia partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia. Certo, adesso rimangono soltanto le due ragazze della spada che si devono qualificare, un ragazzo della spada Enrico Iappelli e Alessia Iommazzo che si devono qualificare, mentre D'Angelo Sonia è già qualificata. Comunque gareggeranno tutte e tre, lo faranno anche perché i primi due devono qualificarsi assolutamente per la finale di Riccione, D'Angelo perché è in una buona posizione reiching e quindi cerchiamo di portarla quanto più in alto possibile perché più si è in alto nelle posizioni e più si hanno dei gironi facili nella prima fase di Riccione. Ecco, l'appuntamento per la spada è per questo fine settimana, si gareggerà a Caserta con un impegno più vicino rispetto agli altri, però comunque resta un impegno difficile. Sì, ci saranno oltre mille partecipanti che provengano un po' da tutta Italia. La gara di spada è una gara abbastanza affollata, è una gara abbastanza numerata come atleti nel girone, quindi è abbastanza complicata la qualificazione in questo senso. Però il livello fortunatamente non è quello della sciabola, non è quello del fioretto e quindi possiamo ambire molto di più anche nella spada come posizioni.